Ad Abu Dhabi i mondiali Special Olympics dedicati a persone con disabilità intellettiva. Il saluto delle istituzioni agli atleti azzurri in partenza. Felicità Pistilli. Una giornata di festa prima della partenza per Abu Dhabi dove dal 14 al 21 marzo parteciperanno ai mondiali Special Olympics. La delegazione italiana porta negli Emirati Arabi 115 atleti affetti da disabilità intellettiva e lanciano un messaggio di inclusione attraverso lo sport. Per volare sempre più in alto. Con la gioia di chi ha già vinto. Special Olympics è una realtà di questo paese che svolge un'attività meritoria nella dimensione dei ragazzi con disagio cognitivo e fa parte della grande famiglia dello sport italiano e dello sport paralimpico. In bocca al lupo anche dalle istituzioni prima di andare in aeroporto tappa Montecitorio l'incontro con il premier Conte e il presidente della Camera FICO. Ad Abu Dhabi saranno 7000 gli atleti Special Olympics da ogni parte del mondo per combattere stereotipi e pregiudizi.